Lexus RX si aggiorna grazie al nuovo restyling che le porta a novità in ambito tecnologico e stilistico. Frontale e coda ridisegnati per rimanere aggiornati con gli ultimi stilemi della casa. Due le versioni di questa nuova RX, normale o L, per far posto alla terza fila di sedili. Il frontale rimane lo stesso per entrambe, con la grande griglia a clessidra che ne domina la scena. Posteriormente invece il montante C della versione corta è più inclinato rispetto a quello della sorella più spaziosa, che necessita di maggior spazio per la testa di chi siede in ultima fila. Nuova la tecnologia di bordo, arriva il display touchscreen con l'integrazione di Apple CarPlay e Android Auto e i nuovi comandi vocali legati a Siri di Apple e Google Assistant. Nuove attenzioni hanno riguardato anche il comportamento dinamico della vettura, con l'adozione di barre antirollio più leggere e resistenti, assieme ad un generale irrigidimento della carrozzeria, che dovrebbero renderla più precisa nelle traiettorie in curva. Arrivano inoltre gli ultimi sistemi di ausilio alla guida, con la più recente evoluzione del pacchetto Lexus Safety System Plus e i nuovi proiettori LED, ora adattivi. L'arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per l'autunno, con la sola motorizzazione 450, dotata di un sistema ibrido, con un V6 benzina e due motori elettrici che le assicurano la trazione integrale.